Perquisizioni tra Milano e Torino a carico di 18 giovani ritenuti a vario titolo coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale perpetrate ai danni di una decina di ragazze la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Si tratta, secondo le informazioni della Questura di Milano, di 15 ragazzi maggiorenni e di 3 minorenni di età compresa tra i 15 e i 21 anni, sia stranieri sia italiani di origini nordafricane. L'attività investigativa, basata sulla visione delle immagini e dei sistemi di sorveglianza e sulle testimonianze di passanti e delle stesse vittime, nonché sull'analisi dei social network, ha condotto alle individuazioni dei presunti appartenenti al branco di ragazzi che ha molestato sessualmente nove ragazze. Sono violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate e reati contestati nell'inchiesta della squadra mobile di Milano coordinata dall'Aggiunto Letizia Mannella e dal PM Alessia Menegazzo, che nella mattinata di martedì 11 gennaio ha portato alle perquisizioni per le aggressioni sessuali nei confronti di nove ragazze. Nell'indagine della Procura di Milano sulle aggressioni in Piazza Duomo nella notte di Capodanno, inquirenti e investigatori dopo le perquisizioni sono al lavoro per individuare altre vittime che si aggiungono alle nove già accertate. Per avere certezza sugli autori delle violenze, in queste ore sono in corso anche riscontri incrociati tra le testimonianze delle ragazze accerchiate, rapinate e molestate. Dei 18 ragazzi, tra cui 3 minorenni identificati e oggetto delle perquisizioni, sono 12 al momento gli indagati a vario titolo per violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate, ma il numero ovviamente è destinato a crescere.